In questa domenica di Pentecoste ascolteremo brani dal capitolo 15 e 16 del Vangelo di Giovanni dove viene annunciato il Paracletos, il Paraclito, l'advocatus alla lettera, colui che è chiamato da presso, colui che ci parla da vicino, che parla al nostro cuore, lo spirito della verità che procede dal padre. Ecco, quando viene, quando arriva, lo spirito della verità ci guiderà a tutta la verità, dice Gesù, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Ovvero sia, lo spirito della verità ci guiderà la verità tutta intera perché non parla da se stesso, perché questa relazione, non è un po' strano, ci guiderà la verità perché la sa la verità, no, perché non parlerà da se stesso. Che spirito di verità è mai questo? Lo spirito di verità, noi pensiamo che sia collegato alla verità come un oggetto, come un'esattezza, come una precisione, come un contenuto. No, non è esattamente un contenuto. Egli dirà la verità perché non parlerà da a se stesso, perché lui, quando parla, non parla da sé, ma parla di quello che ode, prende di quello che è di Cristo, prenderà del mio e ve lo annuncerà, e tutto quello che il padre possiede è mio, cioè cos'è lo spirito santo, o meglio, chi è lo spirito santo quando parla? Ci parla di un altro, cioè è l'amore. L'amore non parla di sé, l'amore non parla dei fatti propri, l'amore non ha il centro nel proprio ego, l'amore ha il centro nell'altro, l'amore parla dell'amato, l'amore parla di Dio, lo spirito santo parla di Cristo, lo spirito santo parla del padre e parla della loro relazione, è un po' inafferrabile sotto questo punto di vista, e non è che si può mettere dentro una categoria per cui noi siamo, come dire, dentro qualcosa di schematizzabile, no, perché l'amore è la comunione, l'amore non è un sentimento, è una relazione, l'amore non è solo un sentimento, l'amore è un atto, è un atto di comunione non è un atto di perfezionismo eroico, è un atto in cui una persona parla con amore, parla dell'amore, e chi parla dell'amore parla di un altro, è come quando una persona ci si avvicina e ci parla e ci dice delle cose magari anche molto serie, dure, difficili da accettare per noi, ecco, questa persona però sentiamo che parla per noi, parla per la nostra vita, lo spirito santo non parla di se stesso, mai, di sé dice molto poco, non è autoaffermativo, perché è amore, questa logica che a noi fa paura un po', l'idea di obbedire allo spirito santo è obbedire all'esproprio, obbedire alla perdita del controllo su tutto, ovvero sia, le cose sono nostre ma sono sempre per amare, dove tutto ciò che è nostro è in funzione dell'amore, dove niente è una sangue esuga che tira fuori dalla vita, dalle cose, una sua propria attribuzione. Le cose che Gesù ha da dirci, che sono quelle dello spirito, noi le possiamo ricevere piano piano, perché è un processo di trasformazione, dice Gesù, per il momento non siete capaci di portarne il peso, cioè ti dico una cosa, sei schiacciato da questa cosa, perché se di tutto questo discorso qui facciamo una teoria e facciamo un moralismo, tutto questo è invivibile, insostenibile. Lo spirito santo che ci insegna a perderci di vista, a non essere più il centro della nostra vita, ci porterà una felicità inaudita, perché è la felicità dell'amore, ma è qualcosa che deve vincere il nostro terrore, abbiamo un oscuro terrore di non essere più il centro della realtà. Noi vediamo nella prima lettura che i discepoli escono e sanno parlare per gli altri, sanno parlare in funzione degli altri, bisogna perdersi e questa non è un'arte che si impara in un giorno, questo è un lungo processo di svuotamento della propria centralità. Un matrimonio è un'avventura di crescita, ci si impara ad amare sempre di più, i matrimoni che partono belli diventano sempre più sbiaditi, probabilmente non hanno lasciato parlare lo spirito santo o hanno preso tutto come un'opera propria, sono persone buone come tutti, forti come tutti, ma che hanno chiesto al carburante sbagliato la forza di fare il viaggio a se stessi, perché è una cosa bella perdere se stessi, perché perdere se stessi vuol dire far spazio all'amore di Dio, quando uno finalmente entra per esempio nel matrimonio e capisce che è un processo di svuotamento sempre maggiore, è un processo di innamoramento sempre maggiore, ma questi matrimoni esistono? Sto parlando di idee, di teorie? No, esistono, ci stanno, sono persone concrete, sono nella chiesa e quando il matrimonio diventa una vocazione o meglio viene riconosciuto per quello che è una chiamata di Dio che solo Dio potrà portare avanti, quando si smette di essere il tutto delle cose allora il lavoro diventa una chiamata di Dio, il lavoro diventa un luogo dove si perde il proprio ego per entrare nella grandezza della comunione, nella grandezza del collaborare, dello stare insieme agli altri, del prendersi cura degli altri, nel coccolare il cuore altrui, questo è la famiglia, questo è l'amicizia, questa è la società, noi vogliamo fare una società cristiana senza cristiani, cioè senza gente espropriata felicemente di se stessa e che cosa faremo? Delle scimmiottature di cristianesimo perché non è lo Spirito Santo il motore delle cose, perché non è la comunione il motore delle cose, in questa domenica di Pentecoste dobbiamo avere il coraggio, chiedere lo Spirito Santo vuol dire perdere la propria autoreferenzialità, imparare da Lui avere l'altro nel cuore, avere l'altro nel centro, questo lo sa fare solamente Dio in noi, noi siamo troppo impauriti per farlo, non abbiamo la forza per portare questo peso, quando questa cosa inizia ad entrare in noi, noi dobbiamo perdere il controllo di noi stessi, auguro a tutti a me stesso per primo, di saper perdere questa battaglia con Dio, saperlo far vincere dentro la nostra anima.